Il marchio Fendi che a Bagnoarripoli ha già la fabbrica di Ponti a Ema consolida la sua presenza in Toscana con un nuovo stabilimento di pelletteria che sarà realizzato nel territorio dello stesso comune nella vecchia fornace Brunelleschi di Capannuccia. Nelle immagini vedete l'intesa seglata dall'azienda con il presidente della regione Enrico Rossi e il sindaco di Bagnoarripoli Francesco Casini per definire le opere e i servizi a corredo della nuova sede di 13.000 metri quadrati come l'attesa variante alla via Chiantigiana, i trasporti pubblici, la sistemazione di alcune aree e giardini. Il sindaco Casini l'ha definita una storia doppiamente felice per due motivi. Uno perché una delle aziende più importanti nel settore della moda si consolida sul nostro territorio a Bagnoarripoli lo fa con un grande investimento sotto il profilo architettonico, sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico si recupera anche però un'area di degrado dove ci sono state nel tempo occupazioni dove c'è stato nel tempo problemi di natura ambientale, Ethernet e quant'altro. Quindi una grande operazione in un territorio, quello di Bagnoarripoli, che si dimostra ancora una volta attrattivo verso le grandi aziende, aziende nel settore della moda. Prima che in collaborazione con il comune e la regione venisse individuata la soluzione della ex fornace Brunelleschi, Fendi pensava di lasciare la Toscana. Ora invece con il nuovo stabilimento Fendi punta ad un raddoppio dell'occupazione, da circa 250 a 500 addetti più l'indotto. Abbiamo attenzione come regione anche sul versante della formazione e poi c'è un progetto di digitalizzazione dell'azienda che dobbiamo portare in porto con la regione Lazio e che cercheremo di finanziare anche con fondi europei del FERS per stare vicini ai progetti di un'azienda forte, dinamica, così importante nel mondo della moda. Quindi un successo per tutti.